A che servono le tecniche di meditazione? Servono a chi non è ancora diventato la sua meditazione. Quando la meditazione non ha ancora condizionato naturalmente il modo di vivere di chi medita, questi ha ancora bisogno di una tecnica di meditazione esterna a se stesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.